Vallefoglia è in fortissima crescita, ho visto che il vino è sui 14.000, noi siamo oltre 15.000 in crescita, sto raccogliendo i dati anche di questo anno, ho visto che c'è un calo del 3-4% nelle nascite a livello nazionale, noi siamo in controtendenza anche su questo, quindi è estremamente importante la città di immigrati, di persone che fanno 3-4-5-6 figli, come era una volta anche nella tradizione nostra e che ci consente di avere coppie giovani che lavorano, che trovano i servizi ed è per noi molto importante. E poi diciamo anche un occhio attento alla prevenzione dei fenomeni idrogeologici, ho fatto una riunione un'altra mattina, tutti i sindaci di questo comprensorio, il coinvolgimento dell'ANAS, del Consorzio Bonifica, del Ministero dell'Ambiente, l'assessorato regionale all'ambiente, la regione, per cercare di prevenire tutti i fenomeni facendo una buona manutenzione idraulica del territorio, facendo la potatura delle piante, raccogliendo le piante che sono pericolose, possono istruire il corso dei fiumi, dei fossi, che possono in molti casi, come si è visto in Emilia Romagna, che portano via qualche ponte, quindi ecco, meglio prevenire sempre i fenomeni e quindi siamo una città molto viva, molto vivace, in crescita, con un'attenzione forte a prevenire tutti i fenomeni che possono arrecare danni alla nostra città, alla nostra comunità, alle nostre persone.